Musica Posso dire una penola? E no! Sono Giulio, frequento il liceo Bershè di Milano, liceo classico, è una commedia plautina, perché ha funzionato per un motivo davvero semplice, perché il pubblico ha riso. E perché è questo Plauto, sostanzialmente. Quando uno pensa alla letteratura antica, immagina chissà quale tono aureo, quale seriosità. Mentre Plauto è tutt'altro, Plauto è frezzante, Plauto è una comicità spiccia e funziona. Voilà, voilà! Che è? È la concubina del padrone! E da cosa l'hai riconosciuta? Dalla pagina. È utile perché ci dà un'immagine di quello che era Plauto al tempo. Non dandoci il Plauto originale riesce a darci quello che era Plauto in origine. E fino a che non lo vedi, vedi il tuo libro di testo. Ecco, Plauto non è per stare sul libro di testo. Tu sei proprio uno stallone Veroneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone Mica come palestroneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneoneone